Musica Salve amici del Centrometto Italiano, manca una decina di giorni all'inizio delle festività natalizie, vediamo allora gli ultimi aggiornamenti sul quale potrebbe essere l'evoluzione. Situazione sinottica che nel weekend vedrà un robusto anticiclone sui settori centro-occidentali del continente, mentre aria fresca fluirà sull'Italia. Condizioni meteo più stabili, con temperature di qualche grado al di sopra delle medie e soprattutto al sud. La prossima settimana vedrà comunque l'alta pressione spostarsi verso il Mediterraneo, con anomalie positive di temperature che riguardano soprattutto il centro-nord. Massimi dell'anticiclone verso l'Atlantico con l'arrivo delle festività natalizie e possibile irruzione fredda sui settori centro-orientali del continente. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.